Sul set è stato a fianco a James Dean in Gioventù bruciata e dietro la macchina da presa è il regista di Easy Rider. Dennis Hopper è anche uno straordinario e raffinatissimo fotografo. Taschen, in un libro di grande formato a tiratura limitata di solo 100 copie, tutte autografate, raccoglie le migliori fotografie di Dennis Hopper scattate fra il 1961 e il 1967. Foto straordinarie, capaci di raccontare l'America on the road anche nei suoi aspetti meno conosciuti, in bianco e nero e a colori, regalando grandissime emozioni e un punto di vista straordinario, quello di Dennis Hopper. Grazie per la visione!